Gianluca Graziosi Vincevamo senza soffrire, vincevamo senza soffrire, vincevamo senza soffrire, poi magari alle prime difficoltà, poi magari va in difficoltà. Oggi sono contento di aver portato a casa il risultato perché pur non giocando bene, comunque soffrendo abbiamo trovato la strada per vincere la partita. E credo che questo per assurdo sia in assoluto il miglior allenamento, questa cosa qui purtroppo non riusciamo neanche a proporla durante la settimana. E quindi ben vengano queste partite, ben vengano vincere queste partite qua soffrendo. Soprattutto perché sono partite che ci aiutano a crescere, noi eravamo abituati lo scorso anno troppo bene, invece adesso abbiamo capito che la 2 è questa, la 2 è cambiata, la 2 vuol dire anche soffrire queste partite. Poi oggi giocavamo con una squadra molto esperta che faceva anche giocare sporco, giocare zozzo, una prerogativa e quindi bene, bene, deve essere un percorso di crescita. Un percorso di crescita che passa anche dalla prossima partita con Santa Croce a altro avversario tenibilissimo. La prossima dobbiamo giocare bene, perché se non giochiamo bene non so se poi la raccontiamo, nel senso che oggi onestamente un po' di differenza magari di livello ci poteva anche stare. La prossima giochiamo con una squadra veramente forte, una squadra che è in forma, che mentalmente sta bene e quindi la prossima modalmente non è sufficiente solo e soltanto soffrire, la prossima dobbiamo giocare bene.